Siamo qui per fare un video soprattutto per ringraziarvi perché sta pieno, è arrivata anche al primo posto su iTunes Classifica Generale un risultato pazzesco, non ce l'aspettavamo però è stata una cosa bellissima, è giusto anche così perché comunque sapevamo di scontrarci con dei giganti con delle persone che lo fanno per mestiere, noi abbiamo fatto una canzone per divertirvi e per divertirci però alla fine quando sei lì e poi conquisti questi traguardi è veramente veramente bello e emozionante, vero? Soprattutto fare una canzone con il nonno e vedere la mattina svegliarti e essere primo è clamoroso Nel frattempo coccodrilli ho un contest per voi, per ringraziarvi Vi darò la possibilità di venire a pranzo a casa mia con i nonni, tutto nelle norme, fatto tutto a regola d'arte Basta che mandate a stapienocarlettochiocciolagmail.com una mail con l'acquisto del brano su iTunes, ok? Poi ve lo spiegherò meglio nelle storie Chiudi gli occhi Chiudi 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 Non guarda, chiudi Chiudi Chiudi, sta buono L'avevo promesso Ecco i capelli Guarda quanto è bello Guarda Ma che cazzo mi hai fatto? Guarda Scemo Te l'ho colorato Ma che cazzo mi hai fatto? Ma guarda che capelli mi hai fatto? Te l'ho colorati la E l'avevo promesso Ma che ha promesso? Guarda che gli vuoi da sti capelli cucini? Guarda quanto sei bello Salone Guarda 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 E' viola E' viola E' viola E' viola Guarda 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 quanto sei bello Guarda quanto sei bello Guarda quanto sei bello Fermo Guarda quanto sei bello Guarda Oh Guarda Ma guarda Ma guarda che cazzo mi hai fatto? Guarda quanto sei bello E' lei Qui puoi E' qui c'hai i capelli Ad esempio la porta così E' viola Così? E che porti i capelli così? Adesso è stato un mese senza scappare. No, così. E come no? Io ho i miei capelli rosci. Stronzo, stronzo, stronzo. Guarda che cazzo hai fatto, stronzo. Vabbè, che è? Belli. Ma come che è? Come che è? Io scappo così? Va via! Che fa la mia? Ma perché? Vattene! No. Ma perché stai diventando? Ma vai via! Non le pretendi sotto. Stai a vivere. Ma vai via! Stai a vivere. Perché stai diventando? No. Ma vai via! Ma vai via! Ma vai via agita! Basta!